Buon venerdì sera a tutti. Dall'immagine del satellite si nota la presenza di corpi nuvolosi che dal nord della penisola tendono a spostarsi verso le regioni centrali. Si tratta dell'impulso nordatlantico che seppur debolmente si sta incuneando sulla nostra penisola, scalzando momentaneamente il regime anticiclonico. Sarà un passaggio molto veloce e già domani pomeriggio sera sarà andato via dalla nostra penisola favorendo un miglioramento rapido del tempo. Miglioramento che sarà ancora più evidente nella giornata di domenica che risulterà soleggiata e anche piuttosto mite. Ma vediamo insieme che cosa si prevede in dettaglio sulla nostra regione. Questa notte il passaggio perturbato favorirà precipitazioni sparse sull'intera regione ma con maggior coinvolgimento dei settori adriatici. Per domani invece sabato 2 marzo, dopo una mattinata in cui insisteranno ancora corpi nuvolosi e forse qualche ultimo fenomeno di pioggia, il cielo andrà lentamente aprendosi e per il pomeriggio sera tornerà ad essere sgombro da nuvole o quasi. Cielo invece completamente sgombro da nuvole per la prima domenica di marzo. La ventilazione da moderata in mattinata diverrà debole sempre dai quadranti settentrionali in serata ed anche i mari da mossi tenderanno a divenire quasi calmi. Per ciò che riguarda le temperature, le minime, a causa della copertura nuvolosa di questa notte saranno piuttosto elevate e comprese tra i 3 gradi del comparto aquilano e i 7-8 delle zone costiere. Mentre per ciò che riguarda le massime, subiranno una leggera diminuzione rispetto ad oggi e se testeranno tra i 12 e i 15 gradi. È tutto per l'aggiornamento medio, una buona serata a voi tutti. Grazie per la visione!